Membrana plasmatica, lezione numero 8 di biologia. In questa lezione affronteremo la struttura della membrana, le sue funzioni e le interazioni che grazie ad essa sono pronti. Innanzitutto partiamo dalla struttura. La membrana cellulare è formata da tre componenti, lipidica, proteica e glucidica. Cominciamo col parlare della componente lipidica. La componente lipidica è a sua volta composta di due tipi di lipidi. Da un lato abbiamo i glicerofosfolipidi, molecole basate sulla glicerina, a cui si legano due acidi grassi mono, polinsaturi o addirittura saturi, e un gruppo fosfato, a cui si collega una testa polare che poi può variare. Si formano quindi nella molecola due regioni. Una polare, che corrisponde al fosfato, alla glicerina e alla molecola polare attaccata al fosfato, e l'altra a polare, corrispondente ai due acidi grassi. Chiaramente la regione polare sarà solubile in acqua, quella a polare no. Da questo deriva il tipo di disposizione particolare dei fosfolipidi all'interno della membrana. I fosfolipidi infatti si dispongono affiancando le teste con le teste e le code con le code, e formando due strati, il cosiddetto doppio layer, in cui le code sono a contatto con le code e le teste con le teste. Si forma in questo modo uno strato bilaminare, che corrisponde alla membrana cellulare. Sono il componente principale della membrana. La struttura che vengono a formare prende il nome di mosaico fluido, in quanto si tratta di uno stato della materia a metà tra il liquido e il solido. Presente infatti una notevole fluidità, ma anche una certa resistenza. Una componente lipidica più esigua è formata dagli sfingolipidi. Gli sfingolipidi sono molecole basate sulla sfingosina, un amminoalcol. A questa sfingosina si collega un acido grasso monopoliinsaturo, un fosfato, e al gruppo fosfato può collegarsi anche una testa polare. Anche queste molecole presentano due regioni. Una testa polare, che è appunto formata dalla parte alcolica e amminica della sfingosina, dal fosfato e dalla molecola polare, e una regione apolare insolubile in acqua formata dall'acido grasso e dalla parte apolare della molecola di sfingosina, cioè la lunga catena di carboni. Gli sfingolipidi si dispongono nella membrana formando delle zone, delle zattere, chiamate raft. I raft, o zatteri appunto in italiano, servono per spostare o solubilizzare determinate molecole. Il colesterolo, ad esempio, trova un'ottima collocazione all'interno dei raft. Molte proteine a base lipidica, per esempio, possono collocarsi all'interno dei raft. La comodità dei raft è che possono essere spostati, proprio come delle zattere, per portare vicine proteine o comunque strutture che servono per compiere uno stesso processo. Infine, l'ultima parte della componente lipidica è il colesterolo. Il colesterolo è uno steroide, che presenta quindi il nucleo di ciclopentano peridrofenantrene, un gruppo H e una catena carboniosa. Il gruppo H è la piccola porzione idrofila, il resto invece è idrofobo. Da ciò la sua disposizione all'interno della membrana. Il gruppo OH si posiziona tra le teste dei fosfolipidi. Vediamo ora. La componente proteica della membrana è variabile. A seconda delle cellule può rivestire percentuali diverse, che vanno dal 30 al 50% in genere. Esistono vari tipi di proteine di membrana. Prima e fra tutte le proteine integrali, cioè quelle che attraversano almeno in parte la membrana. Così abbiamo le monotopiche, che le attraversano e sporgono solo da un lato. Le monopasso, che sono proteine transmembrana che sporgono da entrambi i lati. E infine le multipasso, proteine transmembrana che sporgono da entrambi i lati, ma una volta uscite si ripiegano e tornano all'interno della membrana. Poi abbiamo le proteine periferiche, che invece non entrano in rapporto stretto con la membrana, ma solo con la porzione idrofila, legandosi in maniera debole attraverso interazioni molecolari. Infine esistono le proteine legate ai lipidi, che si intercalano nello spazio tra le due teste dei fosfolipidi, interagendo con le code. Tuttavia, a differenza delle proteine monotopiche, queste proteine hanno solamente un esiguo braccio di aggancio alla membrana. Cioè solo una piccola parte, un loro piccolissimo dominio, entra all'interno della parte lipidica della membrana. Esiste poi la componente glucidica. La componente glucidica è formata da glicolipidi e glicoproteine. Questi sono inseriti attraverso la loro parte idrofoba all'interno del doppio strato fosfolipidico, mentre la porzione zuccherina, che è fortemente idrofila, sporge all'esterno. Si forma quindi una fitta rete di glucidi all'esterno della cellula. Questa fitta rete di glucidi forma una vera e propria intelaiatura attorno alla cellula che prende il nome di glicocalice. Il glicocalice è l'equivalente negli eucarioti della capsula dei prokarioti. E questi sono alcuni esempi di come il glicocalice possa essere visto al microscopio elettronico. Passiamo ora alle funzioni della membrana. La membrana ha essenzialmente quattro funzioni. La funzione di filtro, di comunicazione, di interazione e di riconoscimento. Ci occuperemo per prima della funzione di filtro. La funzione di filtro è la capacità di membrana di fare da barriera selettiva delle sostanze in entrata e in uscita dalla cellula. Questa funzione è molto importante poiché permette alla cellula di avere una certa selettività in ciò che entra e in ciò che esce. E oltretutto permette a questa di proteggersi dai shock chimici. Cominciamo con la funzione di filtro passivo. La funzione di filtro può essere divisa appunto in funzione di filtro passivo e funzione di filtro attivo a seconda dell'utilizzo o meno di energia. Il filtro passivo è quella funzione di membrana che non utilizza energia. Infatti è basato su sistemi a favore del gradiente. Vediamo qui ad esempio il tipo più semplice di diffusione passiva che è la diffusione semplice in cui le molecole attraversano la membrana semplicemente per diffusione perché c'è un gradiente. Tuttavia, non tutte le molecole possono avvalersi della diffusione semplice poiché è necessario che siano piccole e apolari come per esempio i gas piccole e poco polari come l'acqua, l'etanolo o l'urea e possono anche passare delle grandi molecole ma devono essere molto apolari per poter passare. Vediamo ora da cosa è dettata la diffusione semplice. Diffondono facilmente molecole che hanno un alto gradiente quindi se la differenza di concentrazione tra il compartimento extracellulare e quello intracellulare è poca le molecole passano molto lentamente attraverso la membrana se invece questa differenza è ampia le molecole passano velocemente c'è quindi proporzionalità diretta tra differenza di concentrazione e velocità di trasporto la lipofilia e la velocità di trasporto sono direttamente correlate infatti molecole idrofobe come l'acqua passano molto lentamente o non passano proprio attraverso la membrana molecole apolari invece passano con una certa velocità infine anche le dimensioni delle molecole influiscono sulla loro capacità di diffondere ma in modo inverso molecole piccole passano velocemente mentre molecole grandi passano in maniera lenta vediamo ora un altro tipo di filtro passivo che è quello facilitato il filtro passivo facilitato è utile per tutte quelle molecole che non riescono a passare attraverso la membrana nonostante ci sia un gradiente per questo questo tipo di trasporto comunque non richiede dispendio di energia ma ha bisogno di facilitazioni poiché l'ambiente idrofogo della membrana non può essere attraversato la diffusione facilitata è basata su proteine transmembrana che sono i carrier e i canali ionici i carrier agiscono secondo il meccanismo del cambio conformazionale cioè legano la molecola da trasportare cambiano la loro conformazione e la riversano all'interno questo tipo di meccanismo è stato chiamato anche rocking banana cioè banana dondolante suggerito appunto dal cambio conformazionale della molecola il canale ionico invece è un canale ad altissima selettività che permette il passaggio di piccole molecole ioniche la selettività è fornita dai domini esposti lungo il passaggio dell'ione che permettono di far passare solo l'ione richiesto la diffusione facilitata si serve quindi di carrier e molecole canale ionico attraverso i carrier passano tutte quelle grosse molecole non liposolubili come i glucidi o gli amminoacidi gli ioni attraversano i canali ionici anche l'acqua benché non sia uno ione ha un suo canale che è chiamato acquaporina che presenta delle caratteristiche simili a quelle dei canali ionici non esistono né carrier né canali ionici per la diffusione facilitata dei lipidi questo perché essendo molto molto lipofili possono attraversare facilmente le membrane senza bisogno di trasportatori qual è la convenienza della diffusione facilitata? se prendiamo una molecola trasportata da un carrier come il glucosio notiamo che la sua diffusione passiva è lenta anche a concentrazioni molto molto diverse tra l'esterno e l'interno della cellula utilizzando un carrier invece la velocità di trasporto aumenta di molto la proporzionalità che c'è tra la concentrazione di glucosio e la diffusione passiva è una proporzionalità diretta invece la velocità utilizzando un carrier aumenta in modo logaritmico cioè cresce in maniera spropositata nelle prime fasi ma quando la concentrazione di glucosio diventa molta il carrier si affatica e raggiunge il suo limite questo perché il numero di carrier non è infinito per questa ragione una volta che tutti i carrier stanno lavorando c'è da attendere un certo tempo prima che tutto il glucosio sia trasportato tuttavia fin quando il sistema non è saturato è molto molto più veloce della diffusione passiva e anche quando è saturo si mantiene comunque più conveniente bisogna poi notare che la diffusione facilitata è molto selettiva infatti un carrier specifico per il glucosio ad esempio trasporterà in maniera molto più lenta molecole simili che cambiano anche solo di un paio di atomi come lo sono il mannosio e il galattosio che hanno la stessa formula del glucosio ma i gruppi si trovano in posizioni differenti la selettività è ciò che contraddistingue quindi la diffusione facilitata i canali ionici presentano una loro selettività grazie ai domini esposti sulla parte interna del canale questi permettono di legare e slegare all'interno della cellula solo l'ione richiesto tutti gli altri ioni invece verranno solo legati e ritrasportati all'esterno a causa delle forze di repulsione ionica che si vengono a creare tra l'ione sbagliato e i domini specifici infine altra caratteristica della diffusione facilitata è la regolabilità dei canali la regolabilità dei canali include la possibilità dei canali di essere aperti o chiusi la regolazione dei canali ionici quindi la decisione circa la loro apertura o chiusura può seguire vari meccanismi per esempio il canale ionico può cambiare forma e occludersi e non permettere più il passaggio può esporre dei gruppi molto carichi elettricamente che respingono tutte le molecole che tentano di passare attraverso oppure può regolarsi in modo meccanico e impedire il passaggio dopo un certo periodo di tempo o dopo un'inibizione da parte di alcune sostanze in sintesi quindi i tipi di regolazione dei canali ionici possono essere questi il controllo da ligando è tale quando il canale si chiude in seguito al legame con una certa sostanza alcuni ormoni hanno la capacità di chiudere o aprire canali legandosi ad essi perché i canali in quel caso sono anche recettori il controllo da fosforilazione prevede che l'aggiunta di un gruppo fosfato da parte di un enzima presente nella cellula che si chiama kinasi apra o chiude il canale il gruppo fosfato è molto carico elettricamente quindi la sua aggiunta è capace di spostare gli amminoacidi in modo da aprire la strada il controllo da potenziale è quel tipo di controllo in cui un impulso elettrico scaricato sulla membrana apre alcuni canali sempre a causa della repulsione tra gli amminoacidi che li formano il controllo da temperatura è abbastanza raro ma molto importante per la sopravvivenza in quanto si tratta di canali che raggiunta una certa temperatura si aprono o si chiudono questo controllo permette il mantenimento della temperatura corporea infine il controllo meccanico prevede che i canali si aprono e si chiudano grazie a dei gruppi presenti all'interno del canale stesso che vanno a occludere il passaggio prima di introdurre la funzione di filtro attivo bisogna far caso a una certa condizione la cellula si trova perennemente in un ambiente esterno che ha una concentrazione di ioni e acqua diversi rispetti all'ambiente interno la cellula deve quindi poter mantenere una certa concentrazione di ioni e proteine all'interno che è diversa rispetto all'esterno per poter funzionare per questa ragione spesso si troverà a fare degli scambi controgradiente questi scambi controgradiente sono la ragione per cui esiste il trasporto attivo trasporto attivo è un insieme di reazioni che permettono lo spostamento delle molecole nonostante il gradiente sia contrario ma è proprio grazie a questa che la cellula riesce a mantenere il suo equilibrio per i principali ioni la cellula ha bisogno di tenere all'esterno grandi concentrazioni di sodio e all'interno grandi concentrazioni di potassio contemporaneamente deve tenere il cloro all'esterno e gli agnoni proteici all'interno queste sono le principali molecole o ioni le cui concentrazioni sono importanti la disregolazione di questo mantenimento porterà alla cellula si forma quindi quello che si chiama disequilibrio elettrochimico tra l'interno e l'esterno della cellula poiché abbiamo concentrazioni diverse di sostanze chimiche quindi diversa composizione chimica abbiamo diversa composizione elettrica poiché diverse specie chimiche portano diversi potenziali quindi tra l'interno e l'esterno della cellula avremo un dislivello di meno 10 meno 90 millivolt con variazioni a seconda del tipo di cellula che consideriamo tuttavia la quantità d'acqua che discioglie questi ioni è sempre la stessa cioè c'è un'uguale concentrazione dei soluti e questo è importantissimo per la vita questo perché l'acqua essendo una molecola che non diffonde attraverso la membrana facilmente tende a spostarsi al posto dei soluti nei fenomeni di osmosi tuttavia grazie a molecole chiamate acquaporine che sono nient'altro che canali ionici per l'acqua l'acqua può spostarsi all'interno della cellula e mantenere la stessa concentrazione rispetto al liquido extracellulare questo però implica che se il liquido extracellulare diminuisce di concentrazione una grande quantità d'acqua entrerà nella cellula facendola esplodere mentre se il liquido extracellulare diventa troppo concentrato la cellula viene disidratata perché l'acqua viene tolta dal suo interno passiamo ora a parlare del trasporto attivo vero e proprio il trasporto attivo si divide in due tipi primario e secondario il trasporto attivo è basato sul principio del trasporto controgradiente esistono quindi delle proteine chiamate pompe che riescono a trasportare una molecola contro il gradiente spendendo energia accumulata come ATP la differenza tra trasporto attivo primario e secondario è semplice nel trasporto attivo primario una molecola viene fatta passare attraverso la membrana spendendo energia nel trasporto attivo secondario invece una molecola viene trasportata creando un gradiente e spendendo energia per creare questo gradiente e poi trasportandola all'interno grazie al gradiente creato con dispegno di energia trasporto attivo primario è basato su diversi tipi di trasportatori questi trasportatori non sono nient'altro che molecole capaci di trasportare le molecole attraverso il dispegno di energia si chiamano pompe il primo tipo di pompa utilizza delle molecole regolatrici come qui in questo esempio la calmodulina legata al calcio e ATP per prendere energia per trasportare all'interno molecole abbastanza grosse si tratta delle pompe di tipo P che trasportano ioni come il sodio e il potassio oppure l'idrogeno e il potassio o anche il calcio si trovano sia sulla membrana citoplasmatica che sul reticolo endoplasmatico esistono poi delle pompe che utilizzano semplicemente l'energia dell'ATP ma per trasportare solo degli ioni piccolissimi quali sono gli ioni idrogeno controgradiente in questo modo acidificano il citoplasma queste sono le pompe di tipo V che trasportano solo protoni e si trovano sulla membrana di sosomale perché trasportano gli ioni idrogeno nell'isosoma rendendolo acido questo tipo di pompa permette la secrezione acida gastrica tra l'altro infine le pompe di tipo F sono molto particolari perché sfruttando il ritorno isoergonico dell'idrogeno nel citoplasma del mitocondrio creano energia anziché assorbirla e formano molecole di ATP sono le pompe di tipo F di cui l'ATP sintesi è il principale esempio esistono poi i trasportatori ABC dei trasportatori più grossi il cui nome ABC sta per ATP binding cassette cioè trasportatori a cassetta legante all'ATP questo perché la molecola del trasportatore ABC presenta un dominio enorme a parte solo per il legame e l'idrolisi dell'ATP questi trasportatori sono capaci di trasportare molecole più grosse tra questi spicca l'MDR il multidrug resistance che altro non è che una proteina trasportatrice ABC la cui capacità principale è quella di spostare farmaci all'esterno della membrana e per farmaci si intende molecole dannose la multidrug resistance è una proteina molto importante nelle terapie tumorali in quanto molte cellule tumorali sono capaci di sviluppare una pompa multidrug resistance molto attiva esistono vari approcci al trasporto attivo primario il primo è l'uniporto nell'uniporto semplicemente una molecola viene trasportata dentro fuori dalla cellula con spesa di ATP sulla pompa stessa che la trasporta l'antiporto è un trasporto che spende ATP su una pompa ma nello stesso tempo sposta alcune molecole all'interno della cellula e altre fuori le molecole che fanno l'antiporto hanno dei siti attivi sia per la molecola interna che per quella esterna hanno un sito per l'ATP che gli consente di cambiare conformazione ed esporre all'esterno la molecola che deve essere spostata e nel contempo caricarsi anche della molecola che deve essere portata all'interno per poi ritornare all'informazione originaria il trasporto attivo secondario è molto simile al primario come meccanismi cambia solo in un certo senso la filosofia questo perché perché l'energia viene spesa certo per effettuare un trasporto controgradiente ma in un senso diverso se una molecola deve entrare all'interno della cellula l'energia non viene spesa per trasportarla direttamente ma per creare un gradiente che permetterà a questa molecola di entrare vediamo quali sono i vari tipi di trasporto attivo secondario l'uniporto è basato sulla creazione di un gradiente per far entrare all'interno della cellula una grossa molecola , questo gradiente viene generato con spesa di energia la molecola nella cellula attraverso un meccanismo di trasporto passivo poiché il gradiente ora è stato creato proprio come un carrier nel simporto invece una molecola che deve entrare non può a causa del gradiente vengono quindi portate fuori numerose molecole che tendono a tornare dentro secondo gradiente il trasporto secondo gradiente viene quindi accoppiato al trasporto contro gradiente grazie a delle proteine molto particolari che presentano due siti attivi uno per la molecola che entra secondo gradiente e uno per la molecola contro gradiente viene quindi sfruttato il gradiente della prima molecola per trasportare anche la seconda ovviamente l'energia di trasporto passivo deve superare quella del trasporto attivo l'antiporto secondario invece prevede che per far uscire una molecola che non potrebbe uscire dalla cellula per uguale concentrazione venga portata fuori un'altra molecola per creare un gradiente opposto che permetta lo scambio l'antiporto secondario avviene grazie a molecole molto simili agli scambiatori dell'antiporto primario ma non utilizzano energia perché il loro compito viene svolto a favore del gradiente il gradiente però è stato creato con spesa di energia e ora un esempio di come in un sistema biologico tutti questi sistemi siano integrati l'assorbimento di glucosio dal lume intestinale avviene grazie a un cotrasportatore che effettua un simporto tra sodio e glucosio lo spostamento dall'enterocita al fluido interstiziale avviene grazie a un carrier che permette la diffusione passiva del glucosio infine bisogna sapere che la cellula enterocitare sposta continuamente all'esterno degli ioni sodio per poter generare un gradiente tale da contrasportare il sodio e il glucosio dal lume intestinale